calipso però calipso in realtà era la dea dell'oblio ma aveva un altro nome e anche lei dava origine a un concetto diverso di verità che molti abbiamo sentito molti noi hanno sentito nominare in contesti completamente diversi quindi noi non l'associamo più a questo concetto di verità l'apocalipsi l'apocalisse come oggi noi diremmo che cosa apocalissi è così dal greco apocalipsos eccolo qua di nuovo una negazione di calipso calipso era la dea velata la si rappresentava sempre col velo e ulisse appunto che cosa voleva voleva svelarla togliere questo velo e il secondo concetto che i greci hanno di verità e di togliere i veli alla ninfa naturalmente no ma di svelare le cose che sono nascoste è un concetto molto diverso dal precedente il precedente diceva la verità è qualcosa che non si dimentica è indimenticabile ce l'abbiamo dentro basta farci attenzione la ritroviamo questo secondo tipo di verità una verità diversa è nascosta c'è una coperta un velo che la copre e noi dobbiamo scoprire togliere la coperta o svelare togliere il velo da questa verità nascosta o velata e allora questo secondo concetto a volte viene tradotto con disvelamento o lo svelare è la verità scientifica cioè la verità è lì la natura ce la presenta ma ce la nasconde in realtà non è così immediata e infatti ci vogliono gli scienziati che vadano a cercarsela e piano piano ne scoprano una dietro l'altra come diceva Einstein quando un giorno uno studente molto dotato che era un principe anche si chiamava lui de broglie che poi prese premio nobel per la tesi che presentò presentò questa tesi e Einstein disse dopo averla letta disse ha sollevato un lembo del grande velo spesso si pensa che la fantasia dei poeti sia la massima espressione di creatività e di fantasia ma c'è una parte di persone al mondo che si chiamano matematici che in realtà si piccano anche loro di essere creativi spesso si pensa che la matematica sia bella esattamente per coloro che la fanno naturalmente sia bella esattamente come la poesia e a volte quando i matematici ficcano il naso diciamo così nelle problematiche che sono state sollevate dai grandi poeti come per esempio appunto questione della mandia del sole a volte arrivano anche più lontano di quanto quei poeti e anche i loro dei tra l'altro perché poi erano un tutt'uno potevano immaginarsi io sono arrivato alla fine dei cinque minuti che avevo dedicato ad Ulisse se avete delle domande sono qui a disposizione ma non chiedetemi suo mero perché naturalmente ho già detto più anche di quello che sappia e altrimenti mi fermerai qui grazie 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 grazie